Parte quarta. Sanzioni. Titolo secondo. Sanzioni penali. Capo primo. Sanzioni relative alla parte seconda. Articolo 169. Opere illecite. In vigore del 1 maggio 2004. 1. È punito con l'arresto da 6 mesi a un anno e con l'amenda da euro 775 a euro 38.734,50 centesimi. a. Chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restauro, ovvero esegue opere di qualunque genere, sui beni culturali indicati nell'articolo 10. b. Chiunque senza l'autorizzazione del soppretendente proceda al distacco di affreschi, stemmi, graffitti, iscrizioni, tabernacoli e altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista nell'articolo 13. c. Chiunque esegue, in caso di assoluta urgenza, lavori professori, indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 10, senza danno immediato comunicazione alla sopprintendenza, ovvero senza inviare nel più breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l'autorizzazione. 2. La stessa penna prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal sopprintendente e senza dell'articolo 28. Articolo 170. Uso illecito. Abrogato. Articolo 171. Collocazione e rimozione illecita. In vigore del 1 maggio 2004. 1. È punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'amenda da euro 775 a euro 38.734,50 centesimi, chiunque omette di fissare al logo del loro destinazione, nel modo indicato dal sopprintendente, beni culturali appartenenti ai soggetti di cui l'articolo 10,1. 2. Alla stessa penna soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente sopprintendenza dello spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla sopprintendenza affinché i beni medessimi non subiscono danno dal trasporto. Articolo 172. In osservanza delle prescrizioni di tutela indiretta. In vigore del 1 maggio 2004. 1. È punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'amenda da euro 775 a euro 38.734,50 centesimi, chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero ai sensi dell'articolo 45,1. 2. L'inosservanza delle misure cautelari contenute nell'atto di cui l'articolo 46,4 è punita a estenze dell'articolo 180. Articolo 173. Violazioni in materia di alienazione. Abrogato. Articolo 174. Uscita o esportazione illecite. Abrogato. Articolo 175. Violazioni in materia di ricerche archeologiche. In vigore del 1 maggio 2004. 1. È punito con l'arresto fino a un anno e l'amenda da euro 310 a euro 3099. a. Chiunque esegue ricerche archeologiche o in genere opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione. b. Chiunque, essendo vitenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90,1 le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente, o non provvede alla loro conservazione temporanea. Articolo 176. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. Abrogato. Articolo 177. Collaborazione per il recupero di beni culturali. Abrogato. Articolo 178. Contraffazione di opere d'arte. Abrogato. Articolo 179. Casi di non punibilità. Abrogato. Articolo 180. In osservanza dei provvedimenti amministrativi in vigore del 1 maggio 2004. 1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non tempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali, in conformità del presente titolo, è punito con le penne previste dall'articolo 650 del Codice Penale. Capo secondo. Sanzioni relative alla parte terza. Articolo 181. Opere seguite in assenza di autorizzazione o indiformità da essa, in vigore dal 7 aprile 2012. 1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o indiformità di essa, esegua lavori di qualsiasi genere su beni paesagistici, è punito con le penne previste dall'articolo 44 lettera C del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 numero 380. 1. La pena è della reclusione da uno a quattro anni, qualora i lavori di cui è il comma 1. a. Riccadano sui mobili o aree che per le loro caratteristiche paesagistiche siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico, con apposito procedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori. b. Riccadano sui mobili o aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 e abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria, o in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a 750 metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai 1000 metri cubi. 1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui l'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesagistica secondo le procedure di cui è il comma 1 quater, la disposizione di cui è il comma 1 non si applica. a. Per i lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesagistica che non abbiano determinato creazioni di superfici utili o volumi, ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. b. Per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesagistica. c. Per i lavori configurabili con le interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, numero 380. 1 quater, il proprietario, possessore o detenuolo a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessata degli interventi di cui è il comma 1 ter presenta apposita domanda all'autorità proposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesagistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni. 1 quinquies, la riemissione in prissino delle aree o degli immobili soggetti ai vincoli paesagistici da parte del trasgressore prima che venga disposta ad ufficio dell'autorità amministrativa e comunque prima che intervenga la condanna estingue il reato di quel comma 1. 2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la riemissione in prissino dello stato dei luoghi a spesa del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione e al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.